ehi ehi avete rotto la busta io lo dovevo far vedere ai ragazzi ciao a tutti ragazzi io mi chiamo leonardo e benvenuti sul mio canale oggi vi faccio vedere meduse e polpi questo l'ho trovato all'interno della confezione secondo me posso fare anche la collezione di questo perché sono pochissimi e guardate cosa è uscito prima lo vedete voi io non lo voglio guardare è la medusa coronata le meduse coronate sono molto piccole e sono fra le meduse più belle della terra vivono negli abissi marini a 1500 metri di profondità lo sapete che le meduse sono composte quasi completamente di acqua ma attenzione che dai loro tentacoli si sprigiona un veleno irritante lo sapete che a me una volta mi appunto una medusa però non erano di questa vi ho detto in molte in profondità si vede ancora dove mi appunto pensate che le meduse sono fra gli animali più antichi della terra lo sapete che tra gli animali più velenosi del mondo c'è una medusa? guardate questa si chiama si chiama Vespa di mare ed è la medusa più velenosa del mondo ragazzi questa si illumina anche al buio luci ragazzi mi vedete ma spero tanto questo video vi sia piaciuto mettete un mi piace se vi è piaciuto il video iscrivetevi al mio canale ciao 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 ciao